la mano di Tom apre la fontana però voglio vedere se arriva anche in casa a questo punto no? proviamo a vedere se arriva anche in casa questa è la casa è un po' un disordine però Wagner sempre presente a casa il bagno qui è sopra bisogna salire un bagno all'inglese tanto per un bagno all'inglese ecco il bagno e vediamo arriva l'acqua beh questo si è un regalo buon pomeriggio e buona giornata del 19 marzo 2020 lottiamo tutti insieme e restiamo a casa per battere il virus insieme ce la faremo buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata